sono più veloci loro come fanno ad essere più veloci? ma perché mi pigliano sempre a me sotto per sà? ma è più turbo non fa niente ua gg gg te sta fermo? no non è tu qua aspetta sto al secondo posto non sto qua ma qua, qua mannaggia a te mannaggia perché da giù è venuto qua a che posto sto? qua vai 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 ce la fai ma che so? prendi una strada quella che vuoi non c'è insomma una strada che vuoi che sei? ah boh cladio devi vincere che già fa? no cladio ma non c'è più dentro non poi la torna ma perché tu mi hai detto vai sulla strada che vuoi pensavo che ci stava pure nata la strada ma che ci metto tutto su te? e muoviti ma come si vuol dire? ua 15 stiamo ma vado per recuperare chissi c'è sembra chissi oh sto a 14 sembra questo ma guarda chi lo vuole chissi ma è impossibile sto ricchione guarda chi non ti potevi bugare in un momento ma perché hanno venuto bug? ma così era migliore vincevamo già guarda che ha pocosa quando è il mio colore però vanno alz e mamma mia oh i numeri guarda circa mamma mia ma perché contro i miei vuoi fare? ma no meno male che si va a ballare mamma mia ma perché facciamo così? ma perché ora gira giri il tubo lo devi girare e non giri guardiamolo che tanto no eh ma allora guarda chi si va a superare chiudendo la mano guarda 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 è inutato a scendare là ma perché hai visto se bug ha meno mamma mia gira sul tubo rosso non è vero non è vero assolutamente di là ma perché allora mi dice là hai visto non mi fate spagliare dove sto lì ho venuto guarda dai non facciamo così ooooh è fredda mi dà che lavo si so e levo la mangi guarda e ora come recupera secondo giro stavo scrivendo ora come recupera qui stavo aspettando secondo giro eh non ne posso superare qui mamma mia ma perché quelli che stavo fanno così schifo ma nemmeno che l'altra sera io ora ci porto più non lo faccio io eh si si oh tredicesimo ragazzi ma c'è sbagliato devo prendere l'altra strada io non lo so io ho detto che voglio cambiare strada però appena arriva mi prendi l'isolo ah l'isolo tu ah l'isolo vai a destra ecco dodici dodicesimo mannaggia speriamo che non se li prendi dodicesimo sono arrivato dal traguardo ah fammi fare l'ultima l'ultima fu bra ma questo è troppo grandi sti cosi c'è sai zitto 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 shut up c'è zitto 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 vabbè zitto 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 o zitto zitto ha detto sì, sono diabolico non mi senti? che ci senti al mio compagno? eh sì, sono tu ma veramente? siiii non si senti? no, non è vero non stai sentendo qualcosa? no, perché non stava parlando nessuno però chissà, mi sa musica è la musica del gioco forse oh, quale? questa è bella, no, questa qua è frutta, è bella questa è bella però, con scaccia questa qua, eh, quell'altra questa qua che colore che c'è che bella che c'è che bella aspetta tu vai, tu vai, tranquilla vai, tranquilla vai, tranquilla ma va che mamma mia sempre quando premio tu sbagli vai, non ti preoccupa non devo premere niente ecco vai, non ti preoccupa